Ciao ragazzi e bentornati su Titanfall 2, dove eravamo rimasti, avevamo portato la seconda batteria. Bene, questo sarà il primo gameplay dove usiamo un Titanfall, l'altro spruccato, sento puzza di strada. Protocollo 1, unirsi al pilota, collegamento neurale, collegamento neurale stabilito, fuciliere Jack Cooper, ora sei il pilota provvisorio di BT-7274. Siamo i Bitter. Protocollo 2, proseguire la missione. Abbiamo l'ordine di riprendere l'operazione speciale 217, incontrare il Maggiore Anderson dell'SRS. Rilevo forze nemiche in arrivo. Protocollo 3, proteggere il pilota. Ripristino i sistemi critici. Stuto Vortice attivo. Lo Stuto Vortice cattura i proiettili e i missili in arrivo. Rilascia il comando per lanciare gli oggetti catturati contro il... Ok. Assurda figata. ... 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 Neurale ok. Controllo arlo principale e collegamento motorio attivi. Pilota, Titanfall nemico rilevato. Preparati, dovremmo combattere per metterci in salvo. Bene, uccidiamo qualche cattivo. Un atteggiamento positivo non può che migliorare la situazione. Titan della milizia avvistato. Conte l'aiuto BG-7274. Sparano. Titan nemico a terra. Ben fatto pilota. La nostra efficacia offensiva è aumentata. Pilota, altre squadre di soccorso IMC in arrivo. La nostra unica possibilità di sopravvivenza è proseguire la missione e incontrare il Maggiore Anderson. Fino ad allora, saremo soli. Guarda il tuo arco. Dobbiamo muoverci in fretta. Pilota, l'IMC continuerà a cercarci. L'unica speranza di sopravvivenza è raggiungere il Maggiore Anderson a 60 km dalla nostra posizione. Dovremmo adattarci e improvvisare per sopravvivere. Quante strade verso il punto con il Maggiore Anderson? No. Qui Wombat è 3-2. Stiamo assumendo gravi perdite. Forze della milizia, aiutateci. Abbiamo subito pesanti perdite. E' un Titan classe Vanguard d'alleato. Mdc! Felizzo di vederti. Ci seguirebbe una mano. Aggiunste quando io ho conoscendo i occhi parli per uscaldi per uscaldare il Chris All' quanto mi fa? Va a ascendire a casa perché nonREAM yearni per uscaldare un'altra sm judgement ormai E' un cattivone lì dito che sta perfettamente simpatico Ma finisci, ti nascondo di brutto Oddio, ma ci posso salire qua su E' un cattivone E' un cattivone E' un cattivone E' un cattivone Ok E' un cattivone E' un cattivone Un cattivone E' 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 un cattivone Milota, una porta di Controllo del flusso ci blocca la via nella struttura Dovrebbe esserci un pannello di controllo ma come ci spara? i bacchioni i bacchioni i bacchioni i bacchioni con dieci 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 quello che abbiamo qui i miei cari amici degli mc e della milizia è un fallimento della comunicazione e va bene va bene va bene va tutto benissimo chi era accesso ai file kane un mercenario affiliato ai predatori apex noto utilizzatore spacciatore di narcotici ah cazzo bene adesso dobbiamo ritrovare il nostro caro amico il nostro il nostro caro amico titan vabbè credo sia così da che il mercenario non importa nemmeno il mercenario non importa tutti non non ma che ma ma non guarda donna è stabile sta Orkuture, antimateria Ma dove è questa? Orkuture Orkuture Rilevo delle forze alleate della milizia sulla tua rotta, forse hanno bisogno di un aiuto. Ok. Capitano, qualcosa si muove tra i dubbi. Occhio a Ben. È un pilota alleato. Capitano, abbiamo un pilota della milizia. Certo, c'è un pilota della milizia. E' a posto. È bello vedere un pilota alleato. La nostra squadra le ha prese. La davanti e centra... ... 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